Purtroppo, quando una cosa ti entra nel cervello, non se ne va! Salve a tutti ragazzi e bentore! Ciao ciao, siamo tornati con la mia ossessione! Qualche mese fa vi ho parlato di una cosa che... sta cominciando a entrare nella mia vita! Due delle mie passioni unite in una cosa sola! L'ASMR! Capisco che non può piacere a tutti, però ragazzi non è questo ASMR! È quello fatto in un certo modo! Lo so che tu vuoi quella che te lecca l'orecchie, no! Questo è fatto bene! E poi c'è il cibo! Guardare ma non toccare! Perché ultimamente ragazzi c'ho una castrite che mese bagna! Quindi posso solo guardarlo! Torniamo a fare quella che potrebbe essere anche una prova a non godere! Perché andremo a vedere questo tipo di video! Ovvero ASMR con il cibo! Ricette e cose pazzesche! Non so se come video vi può interessare! Però come shorts va una bomba! Quindi in caso ragazzi lo recicleremo come shorts! Questa testa è! Quindi siamo tornati dal mio uomo! Il silenzio è oro! C'è credo con tutti i soldi che fai l'immortalità! Guardate i video! Guardate le copertine! Pagianate dico io! Per me è ancora in circolazione! Ma non si sa come ragazzi! Perché questo si mangia veramente cose che non gli permetterebbero di vivere! Cioè una persona normale non può vivere! Perciò faremo un gioco! Te lo mangeresti? È questa la domanda! Ogni qualvolta vedremo un suo piatto! E io vi dirò se me lo mangerei o no! Però ascoltando! Mettetevi le cuffie! Rilassatevi perché state per vedere cose! Iscrivetevi al canale per non perdervi altri video di questo tipo! E supportatelo con un bel mi piace! Oh partiamo con l'ultimo! Eh! Forse ragazzi stiamo iniziando a fare qualcosa di un po' più... Ecco no! Stavo per di un po' più salutare ma... No! No no! Ecco! La verdura addirittura! Qualcosa... Che è? Aglio? Come se non ci fossero domani? No! Più salutare ci ha messo un panetto di burro! Ma non serve! Ok! Alette di pollo! Salsa! Ci butta la coca cola! No! Credo che sia soia! Un panino con... Ah! Ah! Ma... Ma te posso dire che... Non è manco così malvagio? L'avevamo lasciato in due mesi a mezzo capito che se deve mangiare pure qualcosa di un pelo più salutare! E lui va a sentimento! Cioè non è che misura quello che... E fa... Allora... Filadelfia! Boom! Mattoncino! Sì! Metti! Che te frega se ti senti male! Dove lo dì ragazzi? Disossato il pollo! Bello così! Ci ha pure lasciato la crosticina! Allora non me lo mangerei perché quella salsa è di dubbia provenienza rispetto a tanti altri! Allora cervello! Mi piace! Cipolla! Già tagliata alla grande! Perfetto! Ah! Sì! Vai! Tutta sta cipolla la smaltisci dopo sei anni ma va bene? Vai vai! Ok! Dove lo stai mettendo? Oh! Una sacca poche! Uh! Vabbè il peperone è ripieno! Ragazzi ma che gli sta succedendo? Sta usare la verdura! Mamma mia! Non te riconosco più Zacca! Secondo me è andato dal dottore e gli hanno detto che devi fermare perché tu fai cose che l'uomo non può sopportare! Pure questo non me lo mangerei perché il peperone così è sgranocchiato! Se tre su tre con la verdura finisce il video! Ah! Spam! Eccolo! Guarda che schifo! Che schifo! Cosa fai? No! Pure il brino! Fermo! No! Oddio! Che sta fa? No! No! Ecco vedi! Vedi! Ecco infatti mi sembra... E lo frigge! Ovviamente! Valla a friggere no? Cioè ti prende l'attacco del cuore solo a guardarlo! Che schifo! Ma che è? Che schifo è? Lo spam di me! Cioè questo prosciutto cotto ragazzi ma da dove viene? Cioè poi il brì messo così non ha proprio... Ma perché? Questa cosa è solo per farti male! Cioè se tu ti vuoi ammazzare questo è il prossimo passo! Comunque meno male che non ha fatto tre su tre perché sennò non lo stavo riconoscendo! Ecco! Carne! Bel mattone! Vabbè! Ok! Cipolla che non lo so dove la prende! Tarota! Va bene! Un bel soffritto! Ok! Bello! Oh! Oh! C'è quasi posso stare! Aspettate! Aspettate che forse questa me lo mangerei! No! 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 I piselli li fai! Li scongiare in una padella? Non nel sugo! Vabbè! Comunque ha fatto il macinato con i piselli! Può ancora rovinarlo sto piatto! Aspettate ragazzi! Ok! Lessa le patate! Può ancora rovinare! Io il formaggio ce lo metto ovunque! Vabbè! Un purè! Sì sì! Metti! Metti! Dai che te frega! Ecco! Vabbè! Un gatto di patate! Vabbè! Allora credo che sia tremendo! Però me lo mangerei! Non devo pensare come fa... Cioè la sua tecnica è orribile! Vabbè! Te posso dire! Però devo rivedere sto passaggio dei piselli! Aspettatemi ragazzi! Cioè qua vabbè! Ci ha messo il vino! Ci ha messo il vino! Ci ha messo il vino! Vino bianco! Vino rosso! Roba! Sì sì sì! Sta cosa dei piselli è... Non me passa! Uh! Senti che rumorino! Oh! Aspettate questa ce la godiamo in ASMR! Perché ci devi mettere l'uovo? A che servito l'uovo messo alla de... Ecco! Eh? Eh? Oh! Oh! No! Ma perché? Sì! Vatti a fare l'esame per la salmonella subito! Beh è estetico! Però lui ha la tecnica estetica! Non so perché lo fanno ancora circolare e non l'hanno arrestato! Cioè lui si è chiaramente mangiato la carne cruda! Un melone dai! Stavo per dire... Oh! Finalmente un piatto fresco! Ha preso la carne! Questo muo me frigge il cocomero eh! Guarda! Ok! Sì sì! Vai vai! Sì sì sì! Eh l'uovo! Beh è l'uova raga perché... Sennò le cellule come te si bloccano! Uno smash burger! Ok! Manco troppo smash! Oddio il cocomero! Ah! Il cocomero era! No! Questo è matto un culo raga! Ha fatto il panino col cocomero! Pensavo che fosse... Pomodoro! No sì! Non lo mangerei manco... Guarda! Manco se mi paghi! Pensa quanto può essere dolce sto schifo! Guarda come lui! Lui li con gli occhi chiusi! Lui sta con gli occhi chiusi così! A mangiare perché pure lui lo sa che era me! Questo porta la pizza con l'ananas ad essere accettabile! Guarda quasi quasi gli darei un morso solo per provare che schifo è! Allora ragazzi sotto nei commenti me lo scrivete! Ve lo mangereste questo? Cioè no! Non! Ah sì lo provo! No no te lo mangeresti! È impossibile! Oh no! Già promette male! Ok! Provo con il righello! Ah! Oh per i d'art! Mmm! Ah cioè ci mette il formaggio! Oh! Oh più tranquillo del normale! Che è successo? Pensavo sai con l'hot dog! Questo frigge tutto! Oh! Solo una... Ma lui è cambiato! È cambiato! Non sta più friggendo! Dai questo... Friggi me la te prego! Dai basta! Scusa ho promesso cose incredibili! Aglietto! Friggi! Uff! Erba! Panetto di burro! Dai! Il cuore sta per esplode già! Ah quella salsetta di prima! Oddio! Ecco qua! Eh! 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 Ci mancava! Ok! Bello! Crispi! Ah sì! Perché non era nero abbastanza! Capito? Tutto quello che aveva fatto! Non era cancerogione abbastanza! Davo io pure il fuoco e gli fai quella bella crosticina nera per aumentare i radicali liberi! No! 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 Ti prego fermati! Il brì! Il for... Oh mio... Ok! Ah beh! Oh no! Ecco! Vai! Friggi! Dai! Formaggio fritto! Insomma! Questa paradossalmente è una delle cose più tranquille! Ma lo mangerei alla fine! Dai! Sì! Ma lo mangerei! Perché no? Non so se questo è il formaggio giusto per fare la zozzeria che ha fatto lui! Però... Poteva andare peggio! Ecco! Tipo adesso ragazzi! Bella, bella, bella! Aspetta, aspetta! Forse questo me lo mangerei! Ce siamo! Bene! Sì! E frigge! E frigge! Non c'ho... Perché? Era già cotta! Perché l'hai dovuta friggere? Ok! Uh! Un'erba vecchia dei cent'anni! Ok! Ah ma lui non se lo mangia! Lo usa solo... Esa... No! L'hai rovinato! Che sta a fare? L'hai rovinato! Ma che schifo! Che ha dato solo un morso! Tu gli hai dato solo un morso! Ok! Sì! Peperoncino eh! Uh! Uh! Ok! Aspetta ragazzi! Forse, forse questa me la mangerei! Maionese, ketchup! Salsa rosa! Ecco, vai! Schiaffacelo dentro! Oh! Tranquillissimo! No! Ragazzi è cambiato! Secondo me l'hanno sostituito con un cyborg! Perché il cuore non gli ha retto! Chiaramente ci hanno dovuto mettere un robot! Guarda qui! Il pesce! Questo non lo puoi frigge eh! Se friggi questo te giuro! Cambio canale! Pesce avvocato! Soia! Ok! Vabbè! Salsetta un po' così! Tutto dentro! Non me lo mangerai più ovviamente perché l'ha rovinato! Un uovo! Se non può friggere lui ci butta un uovo! Nooo! Ecco! Ecco fatto ragazzi! Ci siamo! Ci siamo! È il momento della schifata! Questa manco se sta in fammi chimica schimica! Ah! Ah! Oh! Ma sta fa cose semplicissime! Non me lo mangerai comunque! Per cuocere l'ovo tutto il formaggio è andato via! Basta che ci mettevi una fetta! Guarda, guarda! Lui fa il buco! Stanno sette, otto fette! Quando lo cuoce? Guarda come se ne va via! Tutto buttato! È bruciato pure perché... Guarda là! È tutto nero! Non te lo mangiare! Oh no! Oh no! Quattro tipi di formaggi diversi! Vabbè l'ha grattugiato! Oh! Mac and cheese! Sì ragazzi! Ma perché agli americani gli permettiamo di cucinare? Cioè! Perché? Oddio che sa... Che è? La salsetta sta a fare la salsetta... Chissà da che sa! Cosa stai facendo? No! 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 Fermo! Basta! Ti prego! Chissà quanti italiani stanno morendo in questo momento! Sì? Dai che la friggi! Dai che la friggi! Eh sì che lo friggi! Mmh! Guarda quell'olio marrone! L'ha usato 73 volte! Ok? Maio? Ci sta? Sì? Va bene! È bene! Comunque lui fa una pannatura ad un certo livello eh! Dai panini normali tutto Dio! Ma che ti è successo? No! Eh eh no! No! Fermi tutti! Oh no! Oh no raga! Oh dog e pasta! Ha pure pulito eh! Attenzione! Quindi sta cipolla sapeva pure un po' di sapone! Oh no! Oh no raga! Già cotto la pasta l'ha rovinato per me! Ok? Guarda qua qui la... No! Oddio mi sento male! No aspetta questo po' lo frigge pure! Attenta aspetta aspetta! Che sta facendo? Fermati! Ma cacca! No no no! Allora ragazzi se sto video supera 30 mili piace sto piatto lo rifaccio! Compreso il sapone! Cipolla! Peperone! Il viusel è già cotto! Perché l'hai ricotto? Ma che cazzo? Questa pasta guarda quante po... Che cazzo? Che sa c'è? No raga ma sai che gusto c'ha sta roba? Anzi che pensavo l'avrebbe fritto! Poi ci mette sempre sta roba verde per sentirsi meno in colpa! Diceva beh ma io la verdura ce l'ho messa! Ce l'hai messo niente! Ce l'hai messo il dispiacere! Questi invece ragazzi sono i video... Li shorts! Che sta succedendo? Ah ma lei era una galeotta che stava evadendo dalla prigione? Ah deve risistemare la torta! Questi sono praticamente gli shorts con più visualizzazioni sul cibo! Capiamo raga! A me mi sembra una grande russata! E lui? Ah a posto! Ma che? Allora posso dire ragazzi una cosa? Credo di aver visto un po' Iniziare così! Credo però! Guarda lui che dice Che posso fare? Sì è il mio compleanno! Lei mi rimane bloccata qui! E quello è un altro video che forse non troverete su YouTube! Stato ho notato un particolare... Un certo tipo! Ma c'ha il prezzo ai piedi! No comunque questo raga... C'ha chiaramente in continuo su altri siti! Guarda qui quanto è contento di fare del cioccolato! Ah ha creato... Guarda guarda! Ah ma questo è quello che fa le sculture col cioccolato! Un bagno che cos'è? Vai vai! Non ti è contento! Tutto spreco alimentare di un certo tipo! Vai! Ah! Pensavo sarebbe rimasto rosa! Bello fluffy! Ok! Una fragola grande quanto la sua testa! Guarda c'ha il sorriso più grande della faccia! Quei pedali di rosa! Ma che stai facendo zio? È un bagno! Sì sì sì! Ma tu sei un artista fantastico! Secondo me pure è un peccato mangiarsene queste cose arrivati a un certo punto! Guarda guarda che roba! Qua è tutto dorato! Tac! Che spettacolo! Con l'effetto... Ma schifo! Allora ragazzi qua si è perso un po' l'SMR! Quindi vorrei un attimo cambiare però! Vediamo se questa fluffy torta... Mazza quanto è bella soffice! Oh! Blank Space! Ah la canzone... Bello! Ah! Oh! Vado se è impazzito! Però non me la mangia! Sì sì! Mettici un'altra po' di roba là dentro! Dai! Sì! 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 Tanto! Che schifo è! Ma lui ce vede? Ma sa che non ce vede! Per questo che non sa che lui sta a fare! Levagli la carta almeno! Sembra quel video che facemmo io e brazzo con la cioccolata che avevamo mischiato tutti i tipi di cioccolata! Che è sta roba? Il miele? No! Caramello potato! Un gelato! Ma non sa più di nulla! Cioè ti mette sei litri di latte per frullarla sta roba! E di che saprà? Sa d'attacco de cuore! Ma fa schifo! Ma perché? Sì! Ne è manco bello da vedere! Ok! Ok! Questo non è lui! È un altro tizio! Credo che farà le stesse schifate vedendolo! Ma il prosciutto è rotondo ragazzi! Ma lo dovrebbero chiedare in almeno il 90% delle nazioni del globo terracque! Oh sì! Pure lui guarda! Già solo che ci ha messo il pepe ragazzi! La mia castrite sta a strillare! Oh mamma! Ma che schifo! Ma lui non è neanche estetico! Ma brutto! Almeno quello fa le cose belle da vedere! Sì sì ha fatto... Guarda come soffre! Guarda come soffre! No! Sto spam! Vedi? Io ho capito ragazzi che food blogger YouTube fanno tutte le stesse cose! E comprano pure le stesse cose! No! 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 Che fai adesso? Sei uova! Ma che sei? So quattro! Non so neanche contare! Vabbè! Ok! No! Vabbè! E ora farei un insalatone a mischione! Va bene! Quindi il... Oddio no! Guarda quanto è brutto sto prosciutto! Vabbè ti fanno sempre le stesse cose! No! E più alberi pure lui no! Oh madonna santa! No! Fermo! Sto coso ti fa... Ti fa esplodere! Ma è pure schifoso secondo me! Non è neanche buono! Guardalo guardalo come soffre! Caspita raga! Bacon! Riso! Verdura! Per stare un po' più tranquilli con noi stessi! Oh caspita Rina sta facendo! Un roll di bacon con dentro la roba! L'asciuga perché diceva no eh... Non sia mai che sia un po' troppo... Cosa? Che è un sushi? Guarda guarda come soffre lui! Dice un buono! Ma non è vero! Non è buono! Oh no! Oh no! Burro! Ragazzi qua ho finito lo male eh! Latte credo! Sì! Dobbiamo interpretare perché è tutto troppo in cinese! Però lui... L'ASMR lo sa fare! Uova? Latte? Sì! Un dolce? Che sa fa? Oh no! Sul panetto del burro tu sei matto! No raga! Mannategli la polizia a casa! Olio! No questo sta per finire il burro! No! Guarda che bella crosticina però! No no! E beh... Ovvio! No no! C'è solo la crosta! Tre chili in più domani! No non te lo stai mangiando! Butta quella roba! No! Che schifo! Non lo voglio vedere! Lo sbratta! Guarda va sta già a rimpiaggere! Subito chiamate qualcuno! Che vada a casa di questo a vedere se sta bene! Porca miseria raga ma fatto schifo! Te lo mangeresti? Oh questo invece mi piace ragazzi! Credo che sia un tizio che cucina... Vedete? In riva al fiume! Vediamo che fa! A questa cosa mi piace! Niente forno! Ok! Schiaccia la patatina! Poi prendete il formaggio! Oh che bello! Vedi raga? L'arte dell'arraggiarsi! Poi prendete la farina! Dove l'ha presa? Non lo sa perché... Si è portata a una carovana di roba! Per arrivare qui! Ah se fa proprio la pasta! Se la fa fatta in casa! Ok! Una patatina! E va! E butta c'è il formaggio! Così! E così lo chiudi a scrigno! Bello! Guarda quanto è flaffoso! Un pane croccante! Allora questo me lo mangerei ragazzi! Poi se non sono un grande fan del pane col formaggio! In generale del formaggio! Eh però questo è croccantino! Ma senti! Guarda che bello! Questo è il casareccio fatto in casa! Ho ripreso il tizio che si beveva il burro! Praticamente quello che ha perso almeno 5 anni di vita facendo quel gesto! Vediamo! Vediamo che fa! Sì! Allora! Un grande ASMR artist devo dire eh! Ok! Vai! Sì! Infilalo! Mmm! Sì! Ha scocciolato! Bravo! E ci siamo fatti un bel panino! Un po' di verde per... Stare un po' più tranquilli con noi stessi! Oh no! Pure lui fa quella salsa! Che attivo la pannacida! Che come si chiama sta roba? Ah! Guarda quell'aglio! Uuuh! Vai uova! Come se non ci fossero domani! Sì! Guarda lui! Lui che sa che sta beffana cazzata! Però lo fa lo stesso! Ah! No! Non me lo mangerei! Ve lo dico già adesso! No! Eppure è brutto! C'è qualcosa sopra! No! Oh no! Aspetta! Carbonara tosta! Che stai a fa? Fatti fermati! Secondo me lo fa lo stesso! Non fa ride però vabbè! Dio mio! Dio mio! Comunque ragazzi! Non è difficile informarsi su come si fa la pasta! L'acqua! Oddio! Mi sento male! Aspetta! Aspetta! Che lui ha detto che faceva il tosto! Infatti! Oh ma! Oddio! Ma che schifo! Ragazzi! Io spero di non aver urtato i vostri animi sensibili! Io di tutta sta roba mi mangerei quasi niente! Però magari voi si! Vadovelo sapere! In caso rivedrete un po' di scene negli shorts! Oh ciao a tutti! Ciao ciao alla prossima! Ciao ragazzi! Ciao!